Buongiorno a tutti, ci troviamo a Berceto, nel municipio dove oggi il sindaco Lucchi ha commemorato Bettino Craxi. Sindaco, lei ha voluto ricordare questo grande personaggio politico e l'ha fatto in modo veramente lodevole. Per lei cosa significava Bettino Craxi? Significava come quando mi sono iscritto al Partito Socialista e lui l'ha chiarito ancora meglio, io mi sono iscritto nel 72, Craxi l'ho cominciato a conoscere nel 76 e sono diventato Craxiano nel 92, prima ero delle correnti lombardiane e achiliane. Rappresentava quello che è la mia passione politica, stare dalla mia parte, cioè dalla parte delle persone che hanno più bisogno, delle persone più umili, stare dalle parti delle persone che hanno molta curiosità, che vogliono conoscere le cose, che non vogliono rimanere ignoranti, che vogliono cercare di essere protagonisti nonostante il blocco di partenza, stare dalla parte anche degli umili senza avere invidia sociale. Quindi un modo per cercare con il riformismo le piccole cose passo per passo, giorno per giorno, per cambiare e migliorare la società e raggiungere quell'obiettivo che ha la politica, che è quella di ridurre i dolori che sono evitabili. Un grande politico dovrebbe pensare che i dolori inevitabili sono solo tre, sono la morte, le malattie veramente gravi, che non c'è ancora nessun tipo di scoperta scientifica per aiutarle e curarle, e viene sempre sottovalutato un innamoramento non corrisposto. Tutti gli altri problemi la politica può insegnare a risolverli, poi i problemi li risolvono le persone e non la politica. Oggi invece abbiamo una politica di paura fatta da tutti e due gli schieramenti, dove hanno messo alla paura la gente, quindi c'è una depressione completa. Ho fatto fare le analisi nelle fognature di Bercetto, non c'è la cocaina ma c'è l'exotan e c'è questo senso della paura, quindi non c'è più speranza del futuro, perché da una parte gli emigrati, la delinquenza, questo, quell'altro, 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 tutto a modo di tifo da stadio che non interessa a nessuno, che poi il problema si è risolto perché in effetti sono dei problemi. E dall'altra parte il fascismo, il fascismo, il fascismo e si lascia stravincere quello che è il vero avversario nemico della nostra società e della povera gente, che è il neoliberismo, dove l'1% delle persone al mondo detiene la ricchezza dell'altro 99%. Questo fa stare male tutti, stiamo male anche noi, stanno male i nostri giovani, staranno peggio in futuro, stanno male quelli che lavorano, stanno male, ci sono degli stipendi vergognosi, c'è un odio anche nei confronti del reddito di cittadinanza, che è una vergogna che ci sia quest'odio da parte di persone che non hanno detto niente quando hanno regalato miliardi alle banche e alle finanze. E c'è tutte queste cose qua, vuol dire che noi saremo costretti a vivere meno bene e quindi dovremmo cominciare, anche sull'esempio di Craxi, sull'esempio del riformismo socialista, a darci da fare. Non è semplice, io non rivedrò più i tempi che si stava meglio tutti in Italia quando c'era Craxi, però credo che sia un mio obbligo, visto che mi piace cercare di essere leale, cercare di essere riconoscente, di far sapere ai giovani che le cose si possono anche risolvere. La cosa grave di queste disuguaglianze ce la ricorda sempre il Papa, un'altra persona odiata, che è la prima volta che i cattolici odiano il Papa, perché dice delle cose che sono sul Vangelo, quindi se si conoscesse l'Evangelo, che è quello, il vero pericolo, quando la richiesta c'è queste disuguaglianze fortissime, è la guerra. La seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, le guerre sono sempre nate dalle disuguaglianze, da motivi economici e nessuno lo sta dicendo. In compenso ci sono 507 guerre in giro per il mondo. Signor Sindaco, lei vorrà dedicare una via a questo grande politico Craxi? Credo che non ce ne sia bisogno, non sia necessario, può essere in questo momento e anche in futuro una provocazione che non va bene, perché poi in effetti, voglio dire, anche se lui l'ha detto in Parlamento, anche se tutti i partiti facevano così, anche se due partiti in modo particolare, il Partito Comunista e la Democrazia Cristiana, hanno iniziato ad avere dei soldi nel 1945, ma nessuno lo dice, uno dagli Stati Uniti e l'altro dalla Russia, la Russia addirittura era fra virgolette un paese nemico e con i soldi loro hanno sfalsato molto la democrazia, perché addirittura, ad esempio, il Partito Comunista interveniva nella... dava a lui dei soldi ai socialisti, ma interveniva all'interno della vita politica del Partito Socialista, le scissioni del PSIUP, eccetera, sono state tutte finanziate. Per cui io credo comunque il problema, diciamo così, morale dei soldi, anche se era una cosa generalizzata, esiste. Penso che di Craxi la cosa più bella che si possa fare nei suoi confronti è far valere invece la sua capacità politica, perché ha fatto veramente delle grandi cose che si vedevano già i risultati. Poi contro di lui ci sono anche tantissime sciocchezze da un punto di vista politico, poi sono notevoli e io sono convinto che con Craxi non ci sarebbero state queste privatizzazioni, autostrade, eccetera, eccetera, non avrebbe... adesso io non posso prendere il posto di Craxi, non credo che avrebbe giudicato positivamente, anche se era un suo amico, i governi di Berlusconi, le scelte politiche di Berlusconi, eccetera, eccetera, perché le avrebbe considerate ridicole e anche dannose. Non credo che avrebbe accettato dei governi e delle riforme come quelle che ha fatto Prodi, che ha fatto Monti e non avrebbe accettato neanche quest'Europa, ma un conto è dirlo da persona contro l'Europa, un conto è criticare l'Europa come faccio io da persona che vuole l'Europa. Benissimo, un'ultima cosa, le volevo chiedere, lei come sindaco, come primo cittadino, come vede la politica a livello nazionale in questo momento? Purtroppo la vivo male e bisogna invece anche rifletterci perché non bisogna mica sempre cercare le parti negative delle cose. Io sto vedendo che la politica non ha più nessun appello, si dice, nei confronti delle persone e della gente. Per averci, per avere l'interesse delle persone deve fare la politica del terrore, della paura, quindi è una politica senza nessun tipo di proposte, senza speranza, senza un minimo di ottimismo, senza sostegno alla gente che molte volte conta anche una pacca sulla spalla e gli fai paura, gli dici, guarda, tu starai peggio, adesso stai già male, adesso ti vengono in casa e ti rubano, adesso ritornano i fascisti, adesso ci sarà questo, adesso ci sarà l'altro e le persone vivono nel terrore. E questo qui è veramente, fra virgolette, ne conosco il termine, un crimine perché non si trovano delle soluzioni, tutti problemi serissimi. Bibiano è un problema enorme, è un problema enorme che riguarda tutta l'Italia. Posso affrontare un problema dove ci sono il dolore dei bambini come se fosse una cosa da stadio e rivoltarlo semplicemente a una parte politica, come se quella parte politica lì ne avesse colpa, invece poi succede in Piemonte, succede anche dalle altre parti. E questa parte politica può sminuire questo fatto? Non lo può sminuire. Bisogna affrontarlo e risolverlo, queste cose. Ho citato questo, ma ci sono migliaia di problemi. Quello dell'immigrazione è un problema enorme che va affrontato seriamente. Nel piccolo a Berceto ci abbiamo provato, noi abbiamo chiesto a noi lo SPRAR, cioè di avere i profughi nel 2011, ce ne abbiamo 22 invece di 5 che sono stati poi degli accordi con l'Anci, paesi come Berceto ne avrebbero dovuto avere 5. Abbiamo continuato a averne 22, ma non ho un cittadino di Berceto che mi abbia detto ma cosa fai, i profughi qui e là, eccetera. Perché? Perché sono seguiti? Perché se sgarrono vanno via? E la stessa cosa sulle case popolari. Le case popolari non c'è un Bercetese che mi possa dire hai dato la casa a questo e l'altro e l'altro, ma non l'hai data. Quando me la chiedo un Bercetese ce l'ha subito, però ce l'hanno anche i kossovari, i rumeni, gli albanesi, che meno male che ci sono a lavorare nel nostro territorio. Cioè se le cose sono gestite, se invece non sono gestite, io trovo vergognoso che in stazioni, in tanti posti, eccetera, eccetera, ci sia questa situazione. Trovo anche vergognoso, Berceto, se adesso vediamo di sotto, credo che le abbiano messi in magazzino, c'è tante mercanzia di questi venditori abusivi che non va bene perché ci sono le leggi, giusto alcune leggi rispettarle, ci sono i negozi ai quali per noi sono molto importanti perché è un servizio sociale quando sono aperti anche d'inverno e noi lasciamo vendere alla gente i pentolami, tutte queste robe qua. E su queste cose dopo uno ti dice siete severi, è facile prendersi coi poveretti, che sono poveretti anche quelli che vendono ovviamente. Però io credo che invece, visto che non sono di quella parte lì, se Salvini non avesse avuto direttamente e indirettamente gli antisalviniani, cioè quelli che gli dicono questo, l'altro, 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 Salvini non superava il 4-5%, sono delle mie previsioni. Grazie a questa politica degli antisalviniani, perché non si capisce perché la gente, poi siamo arrivati, se tu voti da quella parte lì sei stupido, voti da quella parte lì perché l'altra parte non è più capace di rappresentarti, ma se c'è qualcuno che ti vuole rappresentare, tenete presente che io gli insulti, voto Bonaccini, li ho presi da tutti dall'altra parte, è venuto Salvini e Berceto, che è corretto che sia venuto, l'ho salutato senza fascia, senza niente, da un punto di vista politico è stata un'operazione eccezionale perché era su un monte dentro un'azienda agricola di una persona giovane che ha investito in montagna e quindi io credo di aver fatto anche una bellissima cosa, anche qua tutti degli insulti e sul mio voto non ci sono dubbi, io lo sto dicendo da settembre, da agosto che voto Bonaccini e voto Bonaccini perché ha sostenuto Berceto nonostante che il circolo PD e non solo, anche tante persone della Valtaro gli avessero sempre detto e scritto, perché ho le lettere, di non darci dei finanziamenti. Lui ha superato queste cose che per me, uno che supera queste cose, in questo momento di amministratore di allevamento mi ha dimostrato di essere un buon amministratore. Benissimo signor Sindaco, adesso passiamo in una domanda un po' più allegra. Cosa mi dice di Jennifer Lopez? Anche su questo, voglio dire, ti genera, io poi su Facebook ci rimango, mi piace, lo uso, vedo, non so se ci sono dei risultati positivi o negativi, mi costa così poco scriverci però che è un modo, oggi so che è difficilissimo informare. Però mi rende conto, mi sono reso conto anche con questo, cioè quindi un qualche cosa che non è di politico, un qualche cosa che può essere. Ci sono dieci righe da leggere, nessuno le legge e si permettono senza leggere anche di criticare. Al di là di chi ha capito subito che se Jennifer Lopez venisse a Berceto credo che ne avremmo da guadagnare tutti, da chi ha un semplice pollaio a chi ha una villa, a chi ha una casa, sarebbe un bene per tutti perché oggi la promozione è una cosa importante e non si può negare che sia una cosa importante. Quindi se venisse bene, mi dispiace quelli subito, allora dove andare i poveri, dove andare qui che non leggono che è tutto da ristrutturare, che ci vuole un milione da ristrutturare e soprattutto non hanno letto, perché sono due anni che io metto lo spot, i 72 spot precedenti dicendo che la casa Pelerzo è a disposizione di tutti se si assumono l'impegno di ristrutturarla. Quindi anche questo, adesso al di là del caso specifico che io ho avuto molto piacere che ne abbia parlato il telegiornale, il Corriere della Sera, tutti i giornali eccetera, poco prima avevano parlato del fisico armonicista che domani 20 gennaio viene a mettere la prima pietra della piscina di Berceto che ce l'ha finanziata appunto Bonacini, ce l'ha finanziata in tempi non sospetti perché ce l'ha finanziata nel 2018 e dopo con la burocrazia arriviamo a iniziare i lavori adesso. Come siamo andati su tutti i giornali tante volte per tante iniziative, io credo ci vuole fortuna perché tante volte non presumi l'ordinanza di Natale, non credevo che avesse questo effetto, invece su tutti i giornali c'è andata. Io credo che una località che in parte vive di veleggiatura come Berceto più se ne parla meglio è, chiaramente se ne parla in bene, sino adesso di Berceto se ne parla in bene, per cui lo vedo come una cosa utile che ho fatto e che faccio anche con fortuna, anche con l'aiuto di tante altre persone, molte volte le idee ti nascono, te le danno degli altri e poi dopo credo che sia utile. Mi dispiace, quelli che bruciano su queste cose qua, ci arrangeranno. Bene, guardi, noi le facciamo tanti auguri perché lei è un sindaco combattivo e ci vogliono queste persone nelle nostre montagne. La ringraziamo veramente di cuore. Ringrazio voi perché il sindaco deve essere combattivo, ma anche uno che cerca di portare avanti la Valceno Web e anche su Facebook e su queste parti dimostra un interessamento al proprio paese, al proprio territorio e dimostra anche la volontà di farlo conoscere sapendo che è bello e se lo conoscessero a noi non mancherebbe nulla. Forse siamo di troppo noi montanari che il nostro territorio molte volte invece di amarlo lo odiamo e una cosa che ho scoperto quest'anno, che è stata fatta in buona fede, mi scuso se ne approfitto per dirlo, è vero che sono da 5-6 generazioni, forse anche di più, che i genitori in buona fede e anche per il bene dei loro figli, quindi non è che lo facciano per cattiveria, comunque è un dato di fatto, dicono ai loro figli di andare via, di non fermarsi dalle nostre parti e questo non ha influenzato poco il nostro territorio e ancora oggi, l'altra sera c'è facendo perito agrario a Bedonia, è appassionatissima di mucche, di vacche, ci vivrebbe insieme, le vuole allevare, non so se da carne, da latte, se vuole questo, se vuole l'altro, c'ha tutto perché c'ha i terreni, c'ha tutte queste cose, i genitori, magari farei così anch'io, gli dicono, hai studiato, hai fatto perito agrario, spero che tu faccia delle altre cose, se devi fare la vaccara potevi evitare di studiare. Questo, cioè voglio dire, nelle nostre zone si sono anche impoverite perché noi abbiamo detto la gente di scappare. Ha pienamente ragione. Grazie, noi la lasciamo andare.